Il mio nome è sempre Gabri Costa, in questo videogioco Hack Pack di Bentley, ora noi dobbiamo proseguire e andare avanti. Non c'è bisogno che vi ripeta in continuazione le sfide, tanto l'avete già capite. Se voi avete già capito le sfide, non ve le sto a ripeterle. Posso usare questa chiave dati per disattivare il firewall. Questa grafica è eccezionale, molto bella. Ci sono questi tre cosi verdi, proviamo quello sinistro. Qui mi porta alla maschera di slide. Poi bisogna capire dove mi porta questo destro. Ma qui ci vuole il codice Panzer, però. Aspetta, prima proviamo la parte centrale. Ah, qui ci vuole la chiave dati, scusatemi. Ogni tanto ci perdiamo e non sappiamo qual è la strada giusta nei videogiochi. Guardate come siamo fortissimi con questo codice Panzer. Questo carro armato rosa. Abbiamo disattivato la parte elettrica. Bene, complimenti. Abbiamo finito il livello. Ora iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, come sempre. Un arrivederci e grazie per avermi seguito. Ricordatevi che sono Gabriel Costa. Grazie per avermi seguito.